Questa mattina in Municipio è stato presentato il nuovo progetto di qualificazione del Polisportivo d'Arsena, zona ipodromo, che sarà realizzato con finanziamenti statali e comunali. Un investimento importante di un milione di euro, di cui 600.000 carico del Comune e 400.000 che ci sono pervenuti grazie all'intervento del Senatore Mercatali, con i quali noi riqualificheremo completamente il Polisportivo d'Arsena, in particolar modo la parte del Polisportivo dedicata al calcio e al podismo. Con questo investimento noi realizzeremo un campi in erba sintetica regolare e realizzeremo i nuovi spogliatoi che andranno a sostituire gli attuali che sono ormai inadeguati. In più metteremo a norma anche la pista di podismo, quindi direi un intervento importante, un investimento importante, soprattutto in un periodo come questo di difficoltà economica per gli enti locali, che sarà messo al servizio dei tanti giovani, dei tanti giovanissimi, circa 400, che frequentano la scuola calcio del Ravenna e anche dei cittadini di Ravenna che frequentano quell'impianto sportivo per fare passeggiate o per fare footing nella pista d'atletica. Quindi io credo un intervento molto importante al servizio della città e soprattutto al servizio dei giovani sportivi del nostro territorio.